Ciao, sono Mara Fasone, ho 26 anni e sono siciliana. Nel mio tempo libero mi piace sparmi al pubblico, faccio molto volentieri la modella e quindi questo ha fatto sì che ho cercato di raggiungere un poco la perfezione, se così si può dire. Ci sono stati momenti in cui non mi vedevo bene allo specchio, cercavo di capire cos'era il problema e quindi nel momento in cui mi resi conto che era il mio naso è iniziata la mia ricerca. Dopo tanti momenti di meditazione e tante ricerche e consigli soprattutto mi sono imbattuta nella clinica Palloro Medical Laser. Ho chiamato la clinica, loro sono stati gentilissimi nel venirmi incontro con i miei vari impegni per fissare questo appuntamento da me tanto atteso. Quindi presi l'aereo, feci Palermo Venezia e mi recai finalmente nella clinica Palloro Medical Laser. Qui sono stata accolta tra tanti sorrisi e molta professionalità. Mi fece raccomodare nello studio del dottor Carlo Alberto Palloro e con il dottore si è subito estaurata una bella sintonia e dopo una lunga conversazione mi ha fatto qualche foto e abbiamo visto quindi così come poteva diventare il mio naso dopo la rinoplastica. Avevo un po' di paura nel capire come si potesse passare da una foto alla realtà. Dopo questo colloquio ritorno a casa e dopo circa due settimane sono ritornata per fare questa famosa rinoplastica. Il giorno del mio intervento abbiamo fatto l'elettrocardiogramma e anche l'esame del sangue. Sono stata preparata da vari infermieri e la loro simpatia mi ha accompagnato fino all'ultimo momento dell'anestesia. È stato un momento di risate finché poi non capì più niente e mi sono addormentata. Dopo la rinoplastica ho dormito nella clinica una notte dove sono stata trattata molto bene. Il giorno dopo sono stata dimessa, felicissima e con una bella plastichetta nel naso. La cosa che più mi ha stupito è quello di non aver mai sentito dolore. Mai. Ritornai in aereo a casa e da lì non potevo fare altro che aspettare. Dopo due settimane il dottor Carlo Alberto Pallaoro finalmente mi tolse la plastichetta. Lì fu un momento veramente magico. Mi vedi per la prima volta così come volevo vedermi. Mi emozionai tantissimo e mi emoziono anche ad oggi ancora un po' nel pensarci. Vi consiglio tutti vivamente questo posto perché a mio avviso il dottore ha le mani d'oro. Grazie a tutti.